bene velocissimo video su questo leopard modello 300 due finali sistemato finali matchati eccetera eccetera lo pilotiamo col 48 5 watt e mezzo di minima andiamo bassa potenza acceso scala 200 90 watt bassa potenza 140 watt alta potenza abbassiamo un po la portante andiamo scala di picco lineare in alta potenza 180 pp